Tornare alla vita dopo aver combattuto contro il Covid-19 e aver affrontato un personale calvario è toccante il racconto di Monsignor Marco Zubiani, parroco di Ardenno, giarciprete di Sondrio, messaggio giunto ai fedeli grazie ad internet. Sono tornato a casa, anche se in isolamento, per vivere questo tempo di convalescenza nell'attesa di fare i tamponi finali. Anche se isolato, sono felice di essere in mezzo a voi, in mezzo alla nostra comunità. Che dire? Beh, prima di tutto un intervento che parla di ringraziamento al Signore, che mi dà una nuova tappa della vita per vivere a servizio di questa comunità, del centro di ascolto, del vicariato, dell'azione cattolica di Ocesana. Cercherò di vivere al meglio questo tempo che il Signore mi ha regalato. Il pensiero di Don Marco va a chi lo ha salvato all'ospedale di Gravedona, alle tante persone che, pur fisicamente distanti, hanno fatto assente la loro vicinanza. Un grazie ai medici e agli infermieri, che con professionalità e con cura hanno salvato la mia vita. Un grazie grande ai miei familiari, che in questo periodo hanno funzionato da centrale operativa nell'informare tutti quelli che lo chiedevano sulla mia reale situazione. Un grazie a tutti voi, a coloro che hanno pregato perché il Signore salvasse la mia vita. Mi viene in mente Mosè, quando vede la sorella malata di lebra e grida al Signore, guariscila, Dio. Credo che sia stato questo il grido di tutti voi al Signore. E sono tanti in valla a piangere un loro caro. Desidero aggiungere un pensiero di solidarietà e di attenzione per le persone morte, sia per il Covid-19, sia per altri motivi, e che nel loro abbandono da questo mondo non sono state assistite per necessità, dai familiari, dalle persone vicine, dalle persone amate, persone alle quali in questo saluto ultimo è mancato il segno della presenza cristiana, la messa e il rosario, la solidarietà per stringerci ai familiari, alle persone care per condividere la sofferenza e il dolore. Recupereremo questo aspetto proprio perché la sofferenza non resti chiusa nel cuore dei singoli, ma diventi momento di condivisione forte.